C'è Matilde che è imperversa di seduzione Al numero 4 il grande Renato Zero con Triangolo L'indirizzo ce l'ho, ritracciarti non è un problema Ti telefonerò, ti offrirò una serata strana Il pretesto lo sai, quattro dischi e un po' di whisky Sarò grande e vedrai, ma mi spazio e dopo mi dirai Che mazio sei, lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, se fai E' lui, lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? C'è difficile farlo con te Mollano! Attenzione eh! Tati a te! Triangolo Renato! Ha telefonato il proprietario del pianoforte Chiede i danni!